Si prepara a recarsi in Libia il ministro dell'Interno Piantedosi? Sulla questione migranti il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi tiene la barra dritta. Annuncia a breve un viaggio in Libia dopo quello di una settimana fa in Tunisia per affrontare il Teba dei Flussi, che sarà però oggetto anche dell'incontro del Consiglio dei Ministri dell'Interno in programma nelle prossime ore a Stoccolma. Spiega poi che la Geo Barents, la nave di medici senza frontiere con 237 migranti a bordo, andrà alla Spezia nell'ottica di un sistema di rotazione dei porti. Spegne così le polemiche sollevate dall'opposizione che accusava il titolare del Viminale di indicare come luogo di approdo sicuro per le navi delle ONG solo comuni amministrati dal centro-sinistra. La Spezia infatti è guidata da una giunta di centro-destra. Dista però cento ore di navigazione, protestano dalla Geo Barents. Loro si lamentano della percorrenza, ha risposto Piantedosi, noi di questa coincidenza astrale. La presenza delle ONG, insieme alle condizioni climatiche, fanno ripartire i gommoni dalla Libia. Sulla rotta per la Spezia, la Geo Barents ha però ricevuto una chiamata di soccorso da Alarm Phone. Il codice di condotta per le organizzazioni umanitarie impegnate nel Mediterraneo viete i soccorsi plurimi e prevede il raggiungimento del porto indicato senza deviazioni. L'ONG invece, avvisate le autorità italiane, si è diretta verso la zona SAR. Prima di raggiungerla, hanno fatto sapere dalla nave, abbiamo incontrato un'altra imbarcazione in difficoltà ed effettuato il salvataggio. Quindi, sul luogo della prima segnalazione, un altro intervento. 107 migranti fatti salire a bordo. Tre operazioni in sequenza. Un comportamento, spiegano dal Viminale, che sarà oggetto di valutazione dopo lo sbarco. E con l'Austria, Siria...